La Astronomy Picture of the Day, la foto del giorno scelta dalla NASA oggi, è quella del meraviglioso scatto della fotografa cadorina Alessandra Masi che lo scorso 15 ottobre è riuscita a immortalare il passaggio della cometa del secolo, la Tsuching Shan Atlas nel cielo di Tai di Cadore. L'immagine è spettacolare e fiabesca. Sono molto soddisfatta che la NASA abbia apprezzato questa foto. Una soddisfazione doppia perché ritrae una cometa in un momento particolare dove mostra anche la sua anticoda e soprattutto perché sono riuscita a ritrarla sul mio paese nonostante le forti luci della Luna e le luci del paese. Non è il primo riconoscimento che la NASA attributa ad Alessandra Masi in precedenza alla galleria quotidiana APOD della NASA aveva selezionato una fotografia di Masi il 19 febbraio 2021 che ritraeva Giove e Saturno vicini con una splendida luna che faceva Capolino sempre sulle Dolomiti ma stavolta sopra il cielo di Pieve di Cadore. Per catturare con il suo obiettivo la cometa del secolo Alessandra Masi è salita fino ai forti di Montericco. Avevo individuato questa postazione adatta per riprendere la cometa proprio vicino al Pelmo che è una montagna per noi molto particolare e riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio dell'umanità e soprattutto sopra il mio paese. Nonostante le bizze meteorologiche e la luce artificiale ad un tratto il cielo si è aperto permettendo alla fotografa lo scatto che leva al suo secondo riconoscimento della NASA. Masi originaria di Vallesella di Domegge vive a Pieve di Cadore, è fotografa sostenitrice della fondazione Dolomiti Unesco e socia dell'Associazione Astronomica Cortina Stelle. Mi sono associata all'Associazione Astronomica Cortina Stelle che mi ha dato lo spunto, lo spirito, la voglia di ritrarre e di rincorrere questi eventi particolari e per cui il mio ringraziamento va soprattutto a loro che sono stati da stimolo per questa mia passione.